Siamo a Santa Margherita Ligure per il tradizionale appuntamento con il forum di Scenari Immobiliari arrivato quest'anno alla ventitresima edizione. Ascoltiamo direttamente dalla voce dei protagonisti qual è lo stato e l'andamento del mercato immobiliare quest'anno e quali sono le novità da parte delle aziende. Come si sta aprendo per il mercato italiano degli investimenti quest'autunno 2015? Quali segnali arrivano? I segnali sono positivi nel senso dell'interesse che è forte sul mercato italiano, del fatto che il trend di crescita nel volume degli investimenti transati sicuramente è continuato negli ultimi 12 mesi, chiuderemo l'anno con probabilmente transazioni superiori per un 30-35% rispetto a quelle dell'anno precedente, forse anche un 40%, anche se, devo dire, nell'ultimissimo periodo c'è stato un rallentamento non tanto di interesse quanto abbiamo notato un rallentamento delle operazioni che si sono affacciate sul mercato. E questo, come dicevo, non è tanto dovuto al fatto che manca l'interesse, quanto alcuni fattori abbastanza strutturali del mercato italiano, una certa mancanza di prodotto che possa essere messo sul mercato e principalmente che potrebbe limitare una ulteriore espansione dei volumi e del mercato. Quindi, in generale, sicuramente un andamento positivo, migliore rispetto all'anno scorso, però una spinta che sembra tendere comunque, non dico a esaurirsi, ma a rallentare. Quali sono i prodotti che gli investitori apprezzano di più, cercano maggiormente e evidentemente fanno fatica a trovare? Apprezzano molto ancora prodotti che generano reddito con anche un possibile upside per eventualmente riposizionamento dal punto di vista strutturale o architettonico di questi immobili e miglioramento o comunque prodotti che possono generare reddito. Il problema maggiore, a cui appunto facevo riferimento prima, è legato principalmente agli sviluppi che ormai da quattro anni sono fermi e su questi, purtroppo, il sistema bancario che rimane da un punto di vista finanziario l'unico accesso alla finanza del nostro mercato, diversamente da altri mercati, il sistema bancario è molto riluttante ancora oggi a finanziare progetti di sviluppo e questo porta ad avere certamente nel medio ma anche nel breve periodo una mancanza di prodotto perché senza rigenerazione, senza riposizionamento, senza sviluppi, nuovi prodotti non ci sono e quindi veniamo un po' a vedere una riduzione di quella pipeline a cui facevo accenno prima. Sull'esistente quindi si deve ragionare, tra retail, uffici e logistica, quali secondo lei è la classifica delle preferenze? Quali funzionano meglio? Il mercato italiano per gli misure stranieri che ricordo anche quest'anno rappresenteranno tre quarti di tutti gli investitori quindi la stragrande maggioranza sono molto spesso o quasi sempre interessati al retail perché comunque questo è un settore che per le caratteristiche del mercato italiano è molto interessante. Certamente anche gli uffici, gli uffici però che abbiano o siano di nuova generazione o che abbiano la possibilità di essere ampiamente riposizionati perché quello che appare chiaro è ormai che in questo nuovo ciclo sarà possibile affittare solamente uffici di grado A o comunque di qualità elevata e quindi dove è possibile fare questo gli investitori sono interessati altrimenti molto meno. Anche sulla logistica ma qui manca veramente molto prodotto interessante e molto difficile da trovare quindi diciamo che le asset class sono un po' coperte completamente un po' per tutte si comincia a soffrire un po' la mancanza del prodotto. Un outsider potrebbero essere gli hotel, abbiamo visto recentemente dei deal molto interessanti su questo fronte. sugli hotel c'è un processo di concentrazione che deve avvenire e non è mai avvenuto il mercato italiano è uno dei mercati più frammentati a livello europeo indubbiamente la ripresa del turismo che c'è stato anche in questi ultimi mesi porterà a una spinta nelle performance degli alberghi che potrà solo far bene al settore qui c'è sicuramente molto spazio ed è un settore che potrebbe sicuramente beneficiare dell'interesse molto forte degli stranieri per il settore.